Allora, dicevamo le ispirazioni di questa, insomma, impresa eccezionale. Quali sono? Ci sono tante cose che sono successe nella tua vita che ti hanno, insomma, introdotto a questa avventura. Però già mi dicevi un professore universitario che è stato particolarmente convincente da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Questo professore universitario che comunque è una persona grandissima, si chiama Alessandro Mezzetti. Tra le persone comunque a cui vorrei dedicare questa camminata è anche lui, perché lui mi ha dato questa capacità di fare di più, di dare qualcosa agli altri. Anche attraverso gesti del genere, comunque un progetto del genere che non da tutti è visto all'inizio come una cosa necessaria. E volevo poi dedicare questa camminata a Claudia, un'amica che purtroppo ci ha lasciato tre giorni fa e che in passato mi aveva detto che sarebbe potuta venire a fare almeno un pezzo di camminata. Purtroppo ci ho messo tanto a organizzarla. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mio zio in passato ha fatto già un'impresa del genere e cerco sempre di allacciare questo tipo di imprese a qualcosa che ti benefico, quindi Bambin Gesù era l'idea più idonea per questo progetto, quindi è tutto a vantaggio dei Bambin Gesù e tutto attraverso il loro sito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.